Fano è una delle città nelle Marche dove è partita la sperimentazione per il plasma iperimmune e quindi sappiamo a che cosa serve ma conosciamo anche le persone che saranno le protagoniste di questa sperimentazione. Allora Baggiocchi, lei è passato attraverso la bufera, come sta innanzitutto? Adesso direi che sto bene, sicuramente il peggio è passato anche se ancora qualche piccolo residuo a livello di stanchezza, ogni tanto l'ho avverto però devo dire che il peggio è sicuramente passato. Sarà uno dei protagonisti, speriamo di sì che donerà il proprio plasma per far sì che questa sperimentazione abbia un seguito. Sì, ho fatto subito richiesta di poter donare questo plasma iperimmune, io ho visto che sono anche un donatore, quindi mi sembrava giusto e logico poter dare un contributo visto che lo sto dando da anni e mi hanno chiamato subito dopo e è iniziato il percorso. A tal proposito io vorrei innanzitutto ringraziare la regione Marche che ha aderito a questa sperimentazione sul plasma iperimmune, vorrei ringraziare anche l'azienda Marche Nord che ha messo a disposizione la sua struttura e il suo personale medico e ovviamente l'Avis Fano che con la sua organizzazione, il suo personale che ha messo a disposizione per questo percorso io credo che sono tre attori principali per poter dare una risposta ai tanti malati che ancora abbiamo e soprattutto anche in prospettiva futura in caso di recrudescenza del virus. Io ho fatto il primo percorso ed è il test sierologico per capire quanti anticorpi ho e se ho quella quantità necessaria da poterli donare e al tempo stesso per essere io protetto poi per un eventuale nuovo contagio che io mi auguro che non avvenga. Quindi adesso stanno facendo queste verifiche, occorre tanta cautela e tanta attenzione e tanto studio dietro prima di lanciarsi in facili proclami. Io vorrei soltanto anche mettere l'accento su una questione. È ancora sconosciuta del tutto la parte dopo la malattia. Io non so quali conseguenze potrò avere, non so quello che sarà fra un po' di tempo. Quindi io dico non rischiamo, non rischiate di essere contagiati, cercate di mantenere ancora le distanze e le norme di sicurezza perché è una malattia nuova di cui non si conoscono le conseguenze. Quindi anche se poi si guarisce non si sa quello che sarà dopo. Bisogna continuare a fare attenzione finché non abbiamo la certezza che si può guarire bene da questo virus.